Ciao a tutti, oggi voglio darvi qualche indicazione su come si scrive un giallo. Come direttore del Giallo Mondadore, a me capita di leggere un numero veramente enormi di dati lo scritti disordienti, per cui so bene quali sono i difetti principali che si riscontrano nelle proposte di chi ambisce a pubblicare a un certo livello. Allora, vorrei dare banalmente qualche semplice regola che un buon giallista deve seguire per cercare di avere sotto controllo il suo lavoro, e anche perché, e questo deve essere chiaro, l'interlocutore a cui si rivolgerà nelle casitrici, cioè noi, gli edito, abbiamo ben presente quali sono tutte queste regole, per cui nei progetti che ci vengono sottoposti vorremmo vederle, vorremmo che ci fossero queste proposte, che fossero ben seguite da parte degli autori. Passiamo quindi a quelli che sono, secondo me, alcuni punti fondamentali, che non bisogna mai trascurare se si ha intenzione di scrivere un giallo. Prima di tutto, conoscere il genere, cioè bisogna essere forti lettori del genere di cui si scrive, bisogna conoscerlo a fondo, anche tutti i suoi sottogeneri, se uno scrive di giallo deve sapere che esiste il giallo di investigazione, il noir, il thrill, il legal thrill, il medical thrill, il cozy crime. Perché bisogna farlo? Perché in questo ambito è complicato riuscire a sapere tutto, fino in fondo, a meno che non si è forti lettori di tutti i generi letterari, di tutti i sottogeneri letterari. E capite che è molto impegnativo. D'altra parte, se non si conosce a fondo un genere, come si può esprimersi ad alto livello? Come possiamo essere sicuri che la nostra idea, ballamente, non sia già stata scritta da qualcun altro? Allora, è evidente che non bisogna pretendere di conoscere tutto il mercato, perché è una cosa complicatissima, difficilissima, ma se si è forti lettori di un genere letterario, magari di alcuni suoi sottogeneri, allora si conoscono gli autori, si sa che cosa hanno scritto, quali sono le storie che hanno appassionato il pubblico e noi stessi. E quindi in quell'ambito possiamo cercare di dare il nostro contributo, il nostro modo di esprimere la nostra passione e tutto quello che ci accomuna con gli altri lettori di quei generi, che come noi leggono e vogliono altre cose di quel genere. Quindi è importante conoscere a fondo prima di mettersi a scrivere. Veniamo ora al punto 2, importante, ma sono tutti fondamentali questi 10, cerchiamo di capirci, l'importante è avere un'idea generale di tutto, poi qual è più importante lo lascio a voi. Punto 2, lo stile, cioè il modo in cui si scrive un libro, un romanzo. Anche qui è importante capire in base al genere e al sottogenere in cui si scrive, quale stile utilizzare e quindi cercare di ricalcare le atmosferie che costruiscono, gli ambienti in cui si rivolgono le storie, la caratterizzazione che si fa dei personaggi, come parlano, come si comportano, come si esprimono. In un giallo classico lo stile sarà un po' più raccolto, più misurato rispetto a un noir o un hard boil piuttosto duro. Voi questa consapevolezza dovete averla fino al momento in cui iniziate non solo a scrivere, ma a scegliere il sottogenere o il genere in cui vorrete esprimervi. Allora a questo punto, una volta stabilito questo, attenzione, attraverso le letture riuscire per capire, verificandole sul campo, fare libri degli autori che già hanno pubblicato o che sono più importanti, quali sono gli stili e modalità di scrittura che ognuno di questi autori mette in campo, allora dovete leggere, capire e poi da lì cercare di portare la vostra espressività, la vostra creatività, il vostro modo personale e distinguibile dagli altri di raccontare le storie, che deve essere vostro, deve essere personale, deve essere scimmiottato da altri, questo deve essere chiaro, anche se nello stile personale lo si impara, lo si acquisisce con il tempo, però bisogna fare uno sforzo in questo senso, però attenzione, inserendo questa propria creatività, questo modo di espremersi all'interno di un ambito che sia riconoscibile e apprezzabile dal pubblico e questo è molto importante. Terzo punto da tenere in considerazione, i personaggi, ok? In un giallo i personaggi sono fondamentali, dovrebbero essere i più possibili originali, ben calibrati, forti, che si possono ricordare, perché se ci pensate, i più grandi gialli, poi alla fine, a noi restano in mente i personaggi, a noi resta in mente Sherlock Holmes, che è un personaggio meraviglioso, le trame delle storie di Sherlock Holmes forse un po' meno, resta in mente Montalbano, certo anche qualche sua storia, ma soprattutto il personaggio Montalbano, allora ecco che bisogna cercare di trovare sempre un personaggio che sia il più possibile originale, che si discosti dagli altri, lo so che è complicato, è difficile, ormai nel mondo del giallo è stato scritto di tutto, i commissari, gli ispettori, i vicequestori, i magistrati, i carabinieri, la guardia di finanza, i giornalisti, è stato scritto di tutto, me ne rendo conto, però bisogna fare uno sforzo, cercare di trovare per i propri personaggi, ma non solo il protagonista, anche gli altri, qualche elemento che sia nuovo, innovativo, diverso dagli altri, perché il personaggio è fondamentale, è quello che resta in testa a chi legge e che poi vi chiederà altre storie, vi chiederà altre storie, non altre gialli, altre trame, ma altre storie di quel personaggio, a Conan Doyle chiedevano altre storie di Sherlock Holmes, a Camilleri chiedevano altre storie di Montalbano, ok? Quindi il vostro personaggio deve emergere, deve svettare, quando questo succede, quando qualche giallista ha un personaggio davvero forte, allora vi assicuro che ha centrato buona parte dei suoi obiettivi. Quarto punto da tenere bene in considerazione, ben presente, l'idea, ok? Nei libri, nei romanzi ci deve essere un'idea forte, cioè ci deve essere qualche cosa, intanto che stimoli voi a scrivere, ma poi che resti in testa al lettore, è qualche cosa che magari ancora non è stato letto, qualche cosa che ancora non si è visto, qualche cosa che magari invece interpreta in maniera completamente disegnetta, stravolgendo le prospettive, qualcos'altro che vi era piaciuto. Ci vuole un'idea. Quest'idea, che cos'è? Può essere relativamente a una trama, può essere relativamente a un'ambientazione, o magari i personaggi. Anche il protagonista può essere un'idea. Quando Conan Doyle decide di scrivere Sherlock Holmes, la sua idea era quella, che era un personaggio incredibile, straordinario, che ha una intelligenza pazzesca e la capacità di cogliere nei dettagli dei particolari che nessuno vede, metterli insieme e riuscire a risolvere degli enigmi altrimenti impossibili da risolvere. Questa era la sua idea. Bisogna cercare qualche cosa che stimoli il lettore a leggere, magari semplicemente leggendo la quarta di copertina, o un editore, un editor leggendo la sinossi che voi gli portate e gli presentate. L'idea deve essere immediatamente messa in risalto, perché l'idea è quello che fa capire al vostro interlocutore che c'è qualcosa di interessante che può essere letto. Punto numero 5. La trama. Allora, all'interno di un giallo, la trama è fondamentale, è importante, molto più di tanti altri generi letterari, davvero. Perché? Perché abbiamo come riferimento dei lettori che sono esperti, sono lettori forti, sono abituati a muoversi all'interno delle trame di un giallo, devono essere trame complesse. Il lettore di gialli non digerisce troppo, non apprezza troppo la faciloneria, le cose raffazzonate, beccano subito qualsiasi manchevolezza ci sia nelle vostre trame. Quindi tutto deve essere ben costruito, deve essere come una sorta di orologio che all'esterno fa vedere il movimento delle lancette, bello, che incanta, che è suadente e che uno si diverte a seguire, perché io seguo il movimento delle lancette. Ma dentro, all'interno, c'è dei meccanismi complicati, molto complicati ma perfetti, che hanno dei movimenti sincronizzati che in definitiva danno l'idea dello scorrere del tempo. Questo deve accadere anche nei vostri libri, questo deve accadere anche nei vostri gialli. La trama, soprattutto se è un giallo di investigazione, la trama è fondamentale e nulla deve essere lasciato al caso. Esistono poi altri elementi che bisogna conoscere per cercare di seguire con una certa intelligenza il lavoro di costruzione di un giallo, di un noir, di un thriller. Per esempio, punto 6, le procedure. Le procedure giudiziarie, le procedure di indagine, come operano, voglio dire, i poliziotti, i carabinieri, devono essere seguite, bisogna davvero conoscerle a fondo. A noi capita di trovare degli strafalcioni dentro nelle proposte dei giallisti incredibili. Allora, bisogna conoscerle. D'altra parte, considerate che ci sono sempre più poliziotti, magistrati, che scrivono e sanno come funziona la giustizia, sanno quali sono le procedure. E loro ti danno un esempio di come sia bello leggere un romanzo dove hai la sensazione della realtà, di quello che accade sia vero. Finire in tribunale, finire in interrogatorio, lì ti spiegano come funziona davvero. Troppi giallisti si improvvisano, non conoscono le procedure, non sanno come funzionano. Parlo di mandato, di perquisizione per entrare una casa, quando non esiste in Italia. Fanno fare gli interrogatori a, voglio dire, a coloro che vengono considerati colpevoli, fanno fare gli interrogatori agli ispettori e commissari, a fine di pulizia non c'è mai l'avvocato, non c'è mai il magistrato. Non è così, non funziona così. Un interrogatore lo fa un PM, lo fa il magistrato, lo fanno gli inquirenti, che sono i magistrati. Allora, sono tante le procedure. Noi troppo spesso siamo, come dire, abituati alle serie tv o ai film, soprattutto americani, dove intanto le cose che succedono in America non sono quelle che succedono qui da noi e bisogna saperlo questo. Ma poi anche nelle cose, nei prodotti italiani, troppo spesso siamo abbastanza lontani di quanto succede nella realtà. Ora, va bene la licenza poetica, la licenza narrativa, però, attenzione, se volete scrivere un bel giallo, se volete confrontarvi ad alto livello con chi le cose le sa, le conosce, le scrive bene, voi dovete informarvi e dovete conoscere le procedure e sapere come funzionano come funziona il nostro sistema giudiziario, come funziona tutto ciò che è intorno a un'indagine che, guarda caso, è alla base del vostro giallo. Eccoci a punto numero 7, il pathos. Questa parola è importantissima. Perché? Perché in un giallo, in un thriller, in un noir, bisogna saper calibrare i tempi della propria storia. Bisogna avere la capacità di tenere in tensione il lettore, fargli trattenere il respiro, sorprenderlo, può tornare a farlo respirare. Questa modalità di scrivere è importantissima perché ci vuole la possibilità di dare un continuo desiderio di leggere ma senza sopraffare un lettore. Bisogna cercare di alimentarlo con delle tecniche, con dei modi di scrivere che siano capaci di tenere in sospeso, in tensione il lettore, e poi dargli la possibilità appunto di rilassarsi un attimo e riprendere subito dopo. Allora, questa modalità si inusidare, cioè bisogna cercare di dare un movimento di alti e bassi, va calibrata molto bene. È un modo per capirlo e basta leggere i grandi che hanno scritti già, li vedrete come questa cosa è veramente fatta molto bene, è pensata e studiata. Ci sono tante modalità, tante tecniche per farlo. Per esempio, una di queste è punto 8, il cliffhanger, cioè traducendo il finale sospeso, il finale che resta in sospeso. Allora, le serie tv ormai ci hanno abituato a questa tecnica, cioè danno l'impressione di chiudere una puntata, nei libri sarebbe un capitolo per esempio, ma proprio l'ultimo stante c'è qualcosa che tiene tutto in sospeso, che stravolge e quindi ti costringe a guardare la prossima puntata, in un libro a leggere il prossimo capitolo. Certo, ormai è diventato quasi fastidioso perché se finisce una stagione, una serie televisiva, resta un cliffhanger enorme, con tutto in sospeso, uno deve aspettare magari un anno per vedere la stagione successiva. Nei libri, nei romanzi, per fortuna questa tecnica può essere invece utilizzata molto bene, cioè si sfrutta il capitolo in modo da lasciare in sospeso e poi passare a cercare di tenere il lettore incollato e portarlo avanti nella storia. Il cliffhanger si può usare anche una tecnica che si chiama di incrocio, cioè cliffhanger incrociati, cioè si finisce un capitolo, magari con un personaggio, un protagonista, si lascia in sospeso il lettore su quello che sta accadendo, sulle avventure o le sventure di questo personaggio. Poi il lettore passa al capitolo successivo credendo di poter andare avanti a leggere quei personaggi, invece si salta a un altro personaggio e anche lì il lettore resta in tensione, perché si ricordava il primo, voleva capire come andava avanti il primo, però legge il secondo per andare avanti, arriva con un cliffhanger anche sul secondo e lì veramente resta spiazzato. Poi arriva il terzo capitolo e torniamo con il primo e così si va avanti. Allora questi cosiddetti cliffhanger incrociati a volte sono molto potenti e servono a tenere veramente in sospeso, in tensione in maniera incredibile la storia. Certo anche qua non bisogna esagerare, non è che si possono fare cliffhanger a tutti i capitoli, cliffhanger a tutti i paragrafi come fa qualcuno, perché sennò poi dopo il lettore si esaspera e non si diverte più, vi butta lì il libro, vi lascia perdere la lettura e diceva che questa qua sta esagerando. Quindi tutto va fatto ovviamente in maniera intelligente, ponderata, cercando di capire quali sono le reazioni da parte del lettore. Perché tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso è tutto in funzione di un effetto su un lettore. Cerchiamo di ricordarcelo questo. E i cliffhanger sono un espediente per cercare di trovare un effetto potente, forte sul lettore. Bisogna saperli dosare, averne alcuno bello interessante, bello forte e sfruttarli nella maniera migliore possibile. Punto 9. L'ambientazione. È anche questa importantissima. L'ambientazione che può essere fisica, come per esempio una città, un territorio, che possono marcare un'atmosfera, generare un'identità, distinguere bene. Tutti ricordiamo Sherlock Holmes ambientato nella Londra vittoriana di fine ottocento. Prima rivoluzione industriale inglese, le nebbie, i miasmi mefitici, una città incredibile. Certo la potenza delle storie di Sherlock Holmes ambientata in una città così è fondamentale. Oppure la Bari di Lolita Lobosco, della bravissima Genisi, ci ha appassionato tutti in televisione. La Bari diventa un protagonista delle storie di Lolita Lobosco. Non è solo lei. È anche la città in cui è collocata. Ma io penso a Napoli per tanti autori, Roma, Milano, quindi le grandi città che danno la possibilità di raccontare. In America si parla di New York, si parla di Los Angeles. Grandi personaggi con grandi ambientazioni. Ma può essere la provincia, più chiusa, misteriosa, magari quella del nord-est che ci racconta Massimo Carlotto. Quindi assolutamente l'ambientazione fisica è fondamentale. Ma può essere anche temporale, non solo fisica. Ci può portare un giallo indietro nel tempo. I gialli della Mila Comastri Montanari ambientati nell'antica Roma, per esempio. Il mio Nicolò Taverna, ambientato nella Milano del 1500, la Milano della Peste, dove c'era l'inquisizione che si scontrava, dove c'era l'arcivescovo Carlo Borromeo. Ecco, l'ambientazione può diventare protagonista, può diventare un personaggio, può diventare un elemento caratterizzante, importante e fondamentale di una vostra storia. Bisogna pensarci, bisogna lavorarci, bisogna capire dove e caratterizzare al massimo, cercando ovviamente, di raccogliere più materiale possibile. Il che ci porta, decimo punto, la ricerca. Not least, lo metto per ultimo, ma non è l'ultimo, abbiamo capito che sono tutti punti paritetici, importanti, ci devono essere tutti, vanno considerati tutti. La ricerca, perché il lavoro di ricerca per un giallo deve essere compiuto veramente con passione, con tenacia. Non bisogna lasciare niente di improvvisato, niente al caso, ok? Per cui adesso io ho parlato, per esempio, delle procedure giudiziarie. Certo, bisogna studiare le procedure giudiziarie, però anche in base a dove o quando nel tempo è inviato il vostro romanzo, bisogna recuperare tutte le informazioni possibili sui luoghi, i periodi storici, le usanze di cui deve trascrivere, come si devono muovere i personaggi all'interno di un'ambientazione, di un momento storico che avete costruito. Dovete saperlo. Tra l'altro c'è una valenza in più che negli altri punti, forse l'avrete capita, spesso le migliori idee emergono proprio durante la ricerca, cioè cose a cui non avete pensato, particolari interessanti che potrebbero solleticare la curiosità dei lettori, si annidano nelle informazioni che possiamo recuperare con il nostro lavoro di ricerca, che quindi deve essere il più possibile meticoloso e approfondito. Però attenzione, coltello a doppia lama, non bisogna accedere alla tentazione, troppi lo fanno, di dare sfoggio di tutto quello che si è imparato. Non dovete passare al lettore tutte le nozioni che vi hanno arricchito durante il vostro lavoro di ricerca. Quello che importa è che tutto sembri vero, realistico e ben costruito. Il lettore deve avere la certezza che si trovi in qualcosa di reale, di realistico, e quindi sapere che lo scrittore sa e conosce a fondo ciò di cui parla, ma senza presentire la storia con spiegazioni inutili, senza seppellire il lettore sotto una valanga di informazioni. Ok? Guardate che i bravi autori inseriscono un 10% di quello che hanno appreso in tutto il loro lavoro di ricerca nei romanzi. È più che sufficiente per ricostruire tutto il mondo, l'epoca di cui volete parlare, senza appesantire inutilmente la vostra storia. Bene, e con questo abbiamo finito. Vi ho detto quelle che sono le 10 regole che secondo me sono importanti, vi consiglio di tenere sempre a presente quando ho scritto un giallo. è evidente che ci potrebbe essere mille altre cose di cui parlare, ci sono mille altri punti importanti, ma non si possono ovviamente citare tutti. Questi 10 sicuramente però sono importanti e vanno tenute ben presenti. Poi naturalmente l'estro personale, la propria creatività, il talento di cui ognuno di noi dispone possono aggiungere valore al vostro romanzo, al di là di tutte le regole, di tutti i punti che potete considerare. Però una solida base di partenza secondo me ci deve essere. Tenere a mente questi elementi di cui vi ho parlato potrà essere molto utile, vi sarà molto utile per imboccare la strada giusta e poi soprattutto per i vostri interlocutori, per dare ai vostri interlocutori l'impressione che sapete come si scrive un giallo. Ciao e alla prossima!